Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi vedete mezza struccata e mezza truccata Perché vi voglio portare in una situazione di quotidianità che mi è successa oggi Fra l'altro facendovi vedere facciamo insieme la skin care del mattino Perché non l'ho ancora fatta nonostante siano le 10 più o meno E poi faremo un'applicazione del kinesio taping Che sto facendo di giorno Quindi vi parlo anche di quelle che sono le mie impressioni Da quando ho iniziato a fare kinesio tape di giorno anziché di notte Vi spiego un attimino come mai ho fatto questo cambiamento E quali sono stati appunto i risultati Perché secondo me cambia parecchio devo dire Poi mi farete sapere anche voi se proverete Praticamente stamattina cosa è successo? Mi sono svegliata molto presto e sono andata a fare colazione Quindi in quel momento lì vi dico erano le 7 meno qualcosa E in quel momento lì non era il caso che io mi facessi già la skin care del mattino Uno perché ero di fretta E due perché appunto non Probabilmente sarei tornata a casa a dormire ancora un pochettino Insomma tra una cosa e l'altra non aveva molto senso Quindi cosa ho fatto? Ho semplicemente applicato una crema solare per uscire Leggermente tinta in modo che insomma mi uniformasse un pochettino l'incarnato E poi sono andata a mettere un po' di mascara Un po' di tinta labbra e la stessa tinta anche sulle guance Fine giusto per rendermi presentabile e andare al bar E sono andata al bar in questo stato qua Allora sostanzialmente quello che vi faccio vedere stamattina È quello che sarà la mia skin care routine del mattino Con dei prodottini nuovi che mi sono arrivati Che sono questi qua di Coxir Sono dei prodotti particolari Soprattutto il cleansing oil e la crema Vi farò poi vedere bene come mai Naturalmente stamattina essendo che ho già applicato crema solare e make up Ovviamente utilizzerò il cleansing oil per struccarmi In modo da poter poi fare una skin care routine completa Non uscirò di casa fino a stasera Quindi sì, detergo, mi strucco Applico il kinesio tape Lo tengo tutto il giorno E stasera poi se dovrò mai magari uscire Farò la mia skin care altrimenti no Staccherò il tape, metterò una crema magari Mi ritruccherò e poi mi ristruccherò stasera Prima della sera, della notte Questo perché tante volte mi viene posta la domanda Ma se la mia routine dovesse cambiare Nel senso mi sveglio prima, vado a correre Mi ristrucco a metà giornata Esco, non esco, insomma E questa qua era un po' una giornata tipica Che mi ha, tra virgolette, costretto A alternare diversamente appunto le mie skin care routine Comunque Mi sono già dilungata Vi faccio vedere quali sono i prodottini Allora, Coxir mi ha mandato Questo qua che è un cleansing oil a base di acido ialuronico Olio di camelia e olio di rosa Molto molto delicato Eccolo qua Tra l'altro hanno dei bei packaging E hanno anche dei buoni inci Sono... E' un po' che analizzo l'inci di questi prodotti E devo dire che sono molto ricchi Di un sacco di ingredienti che io normalmente amo E che cerco appunto all'interno Degli miei step di skin care Li trovate tutti su Amazon Mi lascio comunque poi qua sotto i link se siete curiosi Allora, questo qua è il cleansing oil Che è il primo step che andremo ad utilizzare Poi Mi è stato inviato un tonico Eccolo qua Questo qua è un tonico a base di Bava di lumaca Collagene E black bean Che serve il fagiolo nero Tanti ingredienti particolari Anche qua dentro c'è un qualcosa che a me piace un sacco A parte che ci sono anche le proteine Le proteine della soia Il betaine che è molto lenitivo e idratante Estratto di riso e ginseng Sono veramente Ingredienti intanto tipici dei prodotti coreani Questi qua sono tutti prodotti coreani Al di là della bava di lumaca Credo che quello che realmente faccia il prodotto È dato da questi altri ingredienti Allora, questo qua è il tonico Poi ho anche un siero e una crema Siero e crema hanno all'interno la stessa base del tonico Quindi si parla sempre di prodotti con Bava di lumaca, collagene E appunto queste proteine della soia Questi fagioli neri Questo è il siero che ha una consistenza in gel E questa qua è la crema ma vi faccio vedere poi dopo la consistenza Qualcuno di voi l'ha già vista Ma non spoilerò altro Eccola qua Molto belli Li sto già testando da più di una settimana E mi stanno piacendo Tra l'altro li ho inseriti molto facilmente nella mia skin care Perché si possono utilizzare con tutto Non hanno particolari nemici Allora, iniziamo subito con il cleansing oil Adesso io lo utilizzo qui Poi lo sciocco vi faccio vedere due cose Spero di non fare disastri utilizzandolo qua in camera Allora, basta un pump, un pump e mezzo Normalmente con il cleansing oil Si va semplicemente a sfregare il prodotto tra le due mani E poi andarlo a sfregare sul viso Lo scopo per me stamattina è quello di rimuovere lo strato di crema solare La tinta, l'ombra e il mascara La cosa bella, la cosa particolare di questo cleansing oil È che si emulsiona molto ma molto bene con l'acqua Quindi tecnicamente potete utilizzare anche solo lui Questa è una cosa che di solito non sempre viene specificata Allora, io vi dico sempre che c'è una grossa differenza Fra utilizzare un olio puro e un cleansing oil Perché il cleansing oil si emulsiona con l'acqua Ci sono cleansing oil che si emulsionano meglio E altri che si emulsionano peggio Quelli che si emulsionano peggio Andrebbero sempre, sempre tassativamente seguiti da un cleanser a base acquosa Ce ne sono alcuni che se non utilizzati per rimuovere un makeup troppo corposo Possono anche essere utilizzati da soli E supponiamo che la mattina voi vi svegliate con il viso particolarmente unto Potete anche prediligere un cleansing oil di questo genere qua Per appunto fare una detersione scioglisebo Senza andare ad asciugare eccessivamente la pelle E poi sciacquare bene e procedere con la vostra skin care Comunque, io avevo un mascara waterproof Non chiedetemi come mai Ma si è tolto alla perfezione Il prodotto non brucia gli occhi Altra cosa fondamentale quando si parla di un buon cleansing oil Adesso vado a sciacquare e vi faccio vedere cosa succede Allora, siamo temporaneamente trasferiti nel mio bagno Perché volevo farvi vedere l'emulsionamento di questo prodotto Ecco, penso che meglio di così non potevo mostrarvelo Vedete che è diventato tipo una schiumetta Questo significa che l'olio si sta completamente disfacendo E vi consentirà appunto di poter essere sciacquato tranquillamente Insieme ai pochi residui del vostro makeup Eccomi qua, spero di non aver modificato troppo l'inquadratura Questo qua è il viso completamente pulito Comunque, adesso che possiamo procedere Vi faccio vedere subito il tonico Che come vi dicevo prima si adatta perfettamente a tutti i tipi di pelle A me soprattutto la mattina il tonico piace sempre metterlo nelle mani Quindi senza utilizzare dischetto E andarlo appunto a stringere su tutto il viso I prodotti non hanno profumazione Mi sono super super delicati Devo dire, veramente piacevoli da utilizzare Mi hanno piacevolmente colpito Io sono sempre un po' preoccupata Quando devo testare dei prodotti che non conosco completamente E quindi quando vedo che sono comunque di buona qualità Perché ormai davvero Credo che per farsi notare nel mercato della skincare Bisogna creare delle ottime combo E credo che con questi prodotti ce l'abbiano fatta Con il viso ancora umido vado ad applicare il siero Questo perché questo siero qua è a base anche di acido ialuronico E di conseguenza applicarlo sul viso umido potrebbe aiutare Insomma la penetrazione E anche la capacità del prodotto di trattenere l'acqua La consistenza è in gel Quindi è uno di quei prodotti che possono essere messi come base Insomma senza che vadano in alcun modo ad intaccare gli altri step della skincare Si assorbe subito e non rimane appiccicoso sul viso Per niente Di solito questi prodotti fatti così li passo anche tranquillamente sul contorno occhi Perché aiutano comunque a mantenere una compattezza e un'uniformità del viso Appunto anche in questa zona Quando si tratta di un qualcosa che non contiene acidi o non contiene retinolo Di solito lo vado a passare anche sempre sul contorno occhi Una volta che ho terminato con l'applicazione di questi due step qua Vado ad inserire alcuni dei miei soliti step della routine Ovvero la vitamina C Io utilizzo sempre questa qua di Vichy Tenete presente che è un accorgimento Quello di tenere lontano la baba di lumaca da determinati prodotti Ma in realtà lo si consiglia più che altro per le pelli sensibili Perché in generale appunto come vi dicevo Non c'è un contenuto di acido glicolico così alto Da poter effettivamente far notare delle differenze Se si è appunto applicato con prodotti come la vitamina C Quello che consiglio sempre è di evitare di abbinare acidi o due depigmentanti Quando si ha una pelle sensibile Ma potete fare delle prove e valutare voi come continuare Poi è con grande felicità che vi faccio notare che il mio melasma si sta finalmente schiarendo Adesso sono completamente senza trucco E non vedo l'ora di potervi far vedere le foto del prima e dopo Tra un po' di tempo Perché sono veramente contentissima del risultato Sto continuando ad utilizzare questi due prodottini qua Ovvero Eucerin anti pigment e l'acido mandelico di Inkey List Che mi stanno piacendo tantissimo Vado a mettere Eucerin qua proprio sulle macchie E raga vi dico questa combo qua mi sta Cioè oddio al di là dello starmi piacendo come consistenza e come applicazione del prodotto Mi sta piacendo perché sta funzionando Questo è quanto Detto in tutta sincerità Una volta che ho terminato questa applicazione Aspetto che si assorba molto bene perché voglio essere sicura che penetri in profondità dappertutto Dopodiché ci vado ad applicare sopra l'acido mandelico Questo qua forse vi avevo già spiegato Mi piace molto perché ha un applicatore tipo contorno occhi Quindi è ottimo per andare a lavorare localmente sulle macchie Io proprio lo prendo e lo utilizzo come se fosse un contorno occhi Ma poi lo applico su questa zona qua Anche qui massaggio bene Aspetto l'assorbimento e poi procedo Una volta terminato Prima di passare alla crema Metto ancora questa emulsione qua Che è un'emulsione con isoflavone e proteine della soia Anche questa Quindi si va a sommare alle proprietà benefiche della crema che mettiamo dopo Ora vi faccio vedere questa crema Vi dico solo che Da qua non si nota più di tanto Però Allora Questo è Questa è la consistenza È bellissima È veramente bellissima E pensavo che fosse stra pesante sul viso Invece non lo è È assolutamente super leggera Compatta un sacco Da un effetto glass skin Senza ungere assolutamente E appunto si assorbe facilmente Senza Senza essere rogno No ma guardate che roba È bellissima È veramente bellissima E poi mi dà questa sensazione di chok chok Come dicono i coreani Quindi di sensazione di umidiccio proprio Di ben nutrito sulla pelle Che mi piace tantissimo Si spalma bene Come vedete non è assolutamente pesante Non fa peeling Né niente Adesso piano piano ve la faccio vedere anche assorbita Eccola qua Queste sono le sensazioni che mi piacciono Senza che la mangi Se ve lo fosse chiesti Per quanto riguarda l'applicazione del kinesio Non ci sono problemi Nel senso che Io come sempre vi consiglio di fare Una skin care molto ricca Al di sotto del kinesio In maniera che appunto Poi staccarli Non vi crei problemi Questa crema qua va benissimo La cosa importante Ma anche con un sacco di altri prodotti Che potete utilizzare È quello di aspettare qualche minuto Cioè non cercate di attaccare il kinesio In questo momento Quando avete la pelle appena appena Trattata con la crema Aspettate sempre magari Una quindicina di minuti Non lo so Nel frattempo vi tagliate il kinesio Fate qualcos'altro Perché ci sono delle componenti Nelle creme Che devono evaporare Delle componenti Che devono essere assorbite E se queste due cose Non succedono Ovviamente la superficie del viso Rimane unta E il kinesio non attacca bene Quindi Dovete sempre regolarvi Un pochettino Anche in questo senso Adesso vado a sciacquarmi le mani E poi parliamo del kinesio Scorso kinesio Intanto ho trovato questo qua Questo qui È un nastro kinesiologico Diverso Secondo me Da quelli che sono sempre Stato abitato ad acquistare Ovvero questi qua monocromatici Perché ho trovato Essere leggermente più rigido Quindi in generale Mi dà dei risultati migliori Trovo che Sia necessario Tirarlo molto meno E sento molto di più L'azione del prodotto Non lo so Quelli un po' più mollicci Mi danno più fastidio Mi lascio il link qua sotto Fra l'altro Ci sono delle belle fantasie Io l'ho scoperto Completamente per caso Ovviamente Non conoscevo questo brand E intanto Lo taglio Così mentre parlo Risparmiamo del tempo E Ho conosciuto questo brand Perché volevo acquistare Quello leopardato Perché l'avevo visto Lo volevo un po' più carino E quindi mi ero fissata Che lo volevo leopardato Poi Me l'hanno mandato sbagliato Ovviamente Perché sono una sfigata E quindi alla fine Ho ricevuto questo qua Militare Me lo son tenuto lo stesso Perché tutto tanto Quella fine funziona comunque E sono rimasta piacevolmente colpita Dalla sua capacità di trazione Rispetto agli altri Quindi adesso Ho riacquistato Anche quello leopardato Nella speranza Che mi arrivi giusto Allora nel frattempo Perché ho iniziato ad utilizzare Il chinesio di giorno Semplicemente perché Probabilmente a causa del caldo Ho notato che durante la notte Me lo toglievo Probabilmente c'era un qualcosa Che aveva iniziato a darmi fastidio E a maggior ragione Per il fatto di Aver Essere passata da un chinesio Un pochettino più strong Probabilmente Inconsciamente questa cosa Mi infastidiva un pochettino E molto spesso Mi ritrovavo appunto A staccarmi il chinesio dal viso Durante la notte Allora ho detto Vabbè Visto che comunque Lavoro in casa Ho la possibilità di tutto Proviamo ad utilizzarlo di giorno Ho iniziato a metterlo La mattina Appena sveglia Quindi faccio la mia skin care E logicamente Se resto a casa Metto il chinesio E ho visto che A parte che sentivo Molto di più Il lavoro del cerotto Probabilmente perché Durante la veglia Si utilizzano un pochettino di più I muscoli facciali E di conseguenza Il chinesio riesce a Contrastarli Un pochettino più facilmente O comunque si sente Di più che c'è qualcosa Che li contrasta Credo che sia Obiettivamente Soltanto questa La motivazione In ogni caso Generalmente Li tengo dalle 6 Alle 8 ore A seconda di quanto tempo Sto a casa E ho notato Dei risultati Che durano un pochettino di più Quindi mentre Togliendoli al mattino Si vede Quell'effetto Insomma Rimpolpato Appiattito Quello che volete Subito Ma tende poi Un pochettino a svanire Comunque tendono a esserci Sempre dei segni Di persona Appena sveglia Insomma Durante il giorno Una volta tolto il chinesio Se poi vi truccate subito È la vita Cioè io Adesso vi spiego Dove lo vado ad applicare Per le problematiche Che ho io E ho notato Che gli effetti Durano molto di più Rispetto che farlo di notte Mi rendo anche conto Che non è una cosa Che possono fare tutti Nel senso che purtroppo Se una persona lavora di giorno Ha qualche difficoltà A utilizzare il chinesio Tutta la giornata Però magari Cercare di farlo Nel weekend O comunque ogni tanto Io vi ricordo sempre Che il chinesio Può essere utilizzato Per il primo mese Tutti i giorni Ma poi comunque È un trattamento Di mantenimento Quindi magari farlo anche Due o tre volte Alla settimana Potrebbe comunque Aiutarvi molto A mantenere dei risultati Che avete già ottenuto E poi in tutta sincerità Mi sono tolta Il peso appunto Di doverlo fare la sera Tante volte Lo trovo un pochettino Più piacevole A farlo di giorno Al di là degli effetti E di tutto quanto Adesso mi sto tagliando Le strisce Vi spiego poi un attimino Che tipologia di strisce Sto facendo Allora Per il momento Io intanto Ho una conformazione Per il chinesio Che va a trattare Contemporaneamente Tutto quello che sono Secondo me Gli inestetismi Sul mio viso In particolare Vado a trattare Il corrugatore Quindi la ruga Che viene qua in mezzo Quando si stringono Le sopracciglia O la ruga del pensatore Chiamatela come volete Che in realtà Io non ho Ma oltre a volerla prevenire Mettere il chinesio In questa zona Mi Fievolisce un sacco Le micranie Il mal di testa E così via Quindi di solito Mi trovo molto bene Poi Una rughetta Orizzontale Qua sulla fronte Che vi faccio vedere Poi come Sistemo Le naso labiali Quelle sempre E poi Il mio cruccio Più grande Sono questi solchi Sotto gli occhi Insomma Dell'occhiaia Che purtroppo Sono per me Una questione Di conformazione ossea Con il chinesio Però riesco Comunque A tonificare Un pochettino Questa zona E appiattirla In modo da Fare proprio Questo effetto Adesso Se vedete Quest'ombra Con il chinesio Io riesco Ad appiattire La zona E l'effetto Poi è questo Quindi quello Di una pelle Più tirata Con il solco Molto ma Molto meno Evidente Per farlo Vado a tagliare Delle strisce Piccoline Adesso io Alternerò I due chinesio Così vedete bene Le differenze Taglio delle strisce Alte tre e mezzo E larghe Quanto alla metà Del chinesio Quindi due quadretti E mezzo Ricordatevi sempre Questa è una cosa Che non ho fatto Dall'inizio E ho sbagliato Ritagliare gli angolini Quindi rendere sempre Il chinesio Stondato sui bordi In questa maniera Qua Intanto evitate Che i piccoli angolini Si possano sollevare Perché sono più fragili E che quindi Il chinesio Abbia la stessa Tipologia di trazione Per tutti e quattro i lati E quindi Sostanzialmente Ha un'efficacia maggiore All'inizio Pensavo che fosse Una frivolezza Invece poi Utilizzandolo Mi sono resa conto Che effettivamente Se gli angolini Non si sollevano È un pochettino meglio Devo tagliarne ancora Ma Adesso andiamo a piazzare Quelli sulla fronte Quindi vado a prendere Due strisce Un pochettino più larghe Io queste qua Le ho tagliate Da cinque quadretti Larghi sempre due e mezzo E ho fatto quello Con la trazione maggiore Ricordatevi sempre Di applicarlo Partendo dall'ancoraggio E tirando un pochettino La pelle Senza tirare il chinesio Molto spesso Mi venite a dire Ah ma vedo che la pelle Al di sotto del cerotto Fa tipo delle rughette Questo non deve succedere Nel senso che significa Che avete tirato troppo il cerotto Se voi lo tirate troppo Quando lui Si contrae Perché tende comunque Come tutte le cose elastiche A tornare alla posizione originaria Andrà ad arricciare la pelle Andrà ad arricciare la pelle sottostante E quelle arricciature Potrebbero trasformarsi Alla lunga In rughette Quindi dovete sempre assicurarvi Che la pelle al di sotto Sia completamente distesa Io adesso parto dal centro Qua Lo attacco bene Dopodiché Tiro la pelle Verso l'alto E vado ad attaccare il chinesio Alla fine della fronte Una volta che l'ho piazzato Sfrego un pochettino Per Tra virgolette Attivare la colla In questa maniera qua Anche se avete una skin care Molto ricca sotto Come me per esempio Stamattina Riuscite comunque A farla aderire Come si deve Faccio la stessa cosa Dall'altra parte Parto sempre Dallo stesso punto Cercando di Sovrapporre i due cerotti Attacco bene Tiro la pelle E Appiccico E poi attivo E già qua Parte del lavoro è fatto Adesso lavoriamo Sulla ruga orizzontale Con una trazione In senso contrario Quindi prendo Quello piccolino rosso Questa volta Lo vado ad applicare In cima Tirando la pelle Verso l'alto Quindi proprio All'attaccatura Dei capelli Dopodiché Tengo il cerotto E Lo Attacco In basso Sopra gli altri due Per quanto Mi riguarda Io così Mi garantisco Una fronte piatta Quindi Naturalmente Io ci tengo Sempre a specificare Che non sono Un'esperta In questo Settore Nel senso Che non ho Mai fatto Un corso Per l'applicazione Del kinesio Sebbene comunque Abbia Seguito E studiato Parecchio Da autodidatta Per quanto riguarda L'applicazione C'è sempre Qualcuno Che mi dice Lo applichi male Lo applichi storto Non va bene Non va bene A me Così funziona Ho anche notato Sempre sulla base Della mia esperienza Personale Che l'applicazione Del kinesio Tape Non ha controindicazioni Appunto Se non lo si applica Facendo fare alla pelle Quelle piccole grinze Quindi nel senso Al massimo Non succede niente Pur non Avendo Degli studi approfonditi Per quanto riguarda I punti di ancoraggio E l'applicazione A 360 gradi Comunque Mi sono studiata Delle applicazioni Che funzionano Effettivamente E' molto facile Azeccare i punti E in ogni caso Diciamo che il kinesio tape Tende comunque Sempre a fare Un minimo lavoro Anche se non vengono Rispettati effettivamente Tutti i punti tecnici Dove andrebbe applicato Questo lo dico Perché credo Che sia una pratica Che dà molte soddisfazioni E che tutti quanti Possono provare a fare Il kinesio tape E' uno strumento Molto accessibile E quindi Insomma Tentar non nuoce Ecco Per cui Vorrei che Nessuno fosse spaventato Dall'utilizzo Di questo prodotto Adesso Per quanto riguarda La parte sottostante Degli occhi Io andrò ad applicare Tre di questi quadratini Da una parte E tre dall'altra Questi qua sono quelli Larghi Due e mezzo E alti Tre e mezzo Il primo che applico E' quello Dove ho la parte Insomma Un pochettino più critica E quindi ci metto Questo qui più strong Lo vado a mettere Lo faccio partire Ve lo spiego in maniera Molto pratica Quando gonfiate le borse Dove inizia la righetta Così Tengo schiacciato E lo attacco sotto Anche qua La zona del contorno occhi E' una zona molto sensibile La pelle è molto sottile Quindi non è necessario Che il chinesio Sia praticamente Neanche teso Basta Quasi praticamente Applicarlo così com'è E già lui funziona E poi continuo Con quelli rossi Allora Uno lo applico qua Sullo zigomo Per quanto riguarda L'ultimo pezzo Allora Io vado ad applicarlo Sulla codina dell'occhio Quindi sull'angolo esterno Dopodiché Tiro la pelle Per cercare di tendere L'occhio verso l'esterno Tendo un pochettino il tape E lo attacco sulla tempia In questo caso qua Lo tiro un po' di più Perché ci tengo che L'occhio abbia Questa piega Un pochettino stirata Verso l'esterno Vado a finire Con le naso labiali Qua a seconda Allora Sulle naso labiali Per quanto mi riguarda Il trattamento migliore E andare Parallelamente Appunto alle due linee E con due strisce Di questo genere qua Queste qua Sono larghe uno e mezzo E sono lunghe cinque In base alle vostre Naso labiali Potete farle più lunghe O più corte Potete anche pensare Di farle arrivare Un pochettino più in alto O un pochettino più in basso In questo caso qua Io applico La strisciolina All'inizio della ruga Tiro un pochettino su Tiro un pochettino Il tape E seguo Effettivamente La ruga Ne più ne meno E ce la spiaccico sopra Così Che termine professionale Spiaccicare Ecco qua Ecco qua Allora Questa qua rimane Una delle mie applicazioni preferite E quelle che ritengo Per quanto mi riguarda Una delle più efficaci Appunto Su di me Adesso la terrò Su appunto Almeno sei ore Poi la stacchiamo E magari più avanti Vi farò un prima e dopo Per quanto riguarda Quelle piccole zone O quelle piccole rughette Che posso Avere un pochettino affievolito Grazie a questa tecnica In ogni caso I risultati migliori Rimangono quelli Quasi immediati E ricordatevi sempre Che sono risultati Non a lungo termine Quindi che comunque Vanno mantenuti Con nel tempo Facendo sempre Questo tipo di allenamento Proprio come se fosse Un allenamento Vero e proprio Adesso mi tolgo un attimo Questi perché Parlandomi Mi si staccano E va a finire Che parlo con i baffi Così Ecco qua Allora Questo era quanto per oggi Spero che il video Vi sia piaciuto E soprattutto Che vi possa tornare utile Fatemi sapere qua sotto Cosa ne pensate Dei prodotti E se avete tentato Delle nuove applicazioni Di Kinesio O se qualcuno di voi Proverà ad utilizzarlo Di giorno Mi raccomando Condividete sempre Quello che è La vostra esperienza In modo che Possa essere utile Per me E per tutta la community Vi ricordo Che potete trovare Sia i prodotti Coxir Sia tutti i prodotti Per quanto riguarda Il Kinesio Tape Su Amazon Io vi lascio qua sotto Tutti i link Così non vi sbagliate Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Sia i prodotti 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 Grazie.